Solo qualche giorno di sospensione dopo la devastante ondata di maltempo che ha colpito anche Sulmona e la Valle Peligna, dopodiché tutto è tornato nella normalità. Il direttore generale dell'Astra Vezzano Sumona L'Aquila, Reinaldo Tordera, a margine dell'inaugurazione del centro per l'autismo a Prato-la-Peligna, a fare il punto sui lavori del nuovo blocco ospedaliero a Sulmona. C'è stato qualche giorno di sospensione nei giorni drammatici successivi al 18 di gennaio. A Sulmona, grazie a Dio, non tanto per il terremoto ma per la nevicata. Dopodiché i lavori sono ripresi normalmente. Rispetto a quello che vi ho detto nelle scorse settimane, in questo momento non vedo cambiamenti al cronoprogramma. Anche l'assessore regionale della sanità Silvio Paolucci ha confermato che secondo l'otto del nuovo nosocomio è stato già deliberato dalla giunta regionale. Non capisco tutte queste polemiche sull'ospedale di Sulmona, ma è negli anni passati questa parte dell'Abruzzo aveva ottenuto tutti questi investimenti sanitari, ha detto Paolucci. Il nuovo ospedale di Sulmona, il secondo lotto deliberato già dalla giunta regionale in ragione dei trasferimenti che lo Stato ci ha garantito. Il percorso di tempo dipendenti che per la prima volta nell'ospedale di Sulmona sono presenti tutti e tre, cuore, ictus e trauma. Il cronoprogramma del nuovo ospedale prevede la consegna del primo lotto per il prossimo autunno, mentre per il secondo blocco, i cui lavori sono partiti lo scorso 29 dicembre, è tutto ancora da definire. La posa della prima pietra sul cantiere del nuovo nosocomio risale all'11 dicembre 2014. Sono passati più di due anni, se si considera anche l'allentamento dei lavori di quest'estate. Ora Tordera spinge il piede sull'acceleratore, come sta facendo da Messi, anche il Tribunale per i diritti del malato, che chiede più operai a tempi più veloci perché il nuovo ospedale di Sulmona sia presto una realtà. Grazie a tutti.